Ciao ragazzi e ciao ragazze, oggi un super annuncio per voi perché ci sarà un mio incontro a Udine, per la prima volta a Udine questo martedì 4 ottobre, quindi tra pochissimo, praticamente questo martedì al Città Fiera di Udine perché? Perché sta per aprire un nuovissimo negozio NYX, finalmente in filo di Venezia Giulia e quindi all'inaugurazione a Udine ci sarò appunto io per incontrarvi tutti, tutte, insomma come al solito io ve lo dico, prima di darvi tutti i dettagli ve lo dico, siete tutti benvenuti, l'entrata è gratuita possono venire veramente uomini, donne, maschi, femmine, bambini, bambine di tutte le età siete veramente, se mi avete mai visto una volta in un video e siete curiosi di vedermi dal vivo o se mi seguite da tanto e volete venire a abbracciarmi e chiacchierare con me, farmi domande, farvi una foto con me insomma qualsiasi cosa veramente, siete tutti benvenuti perché io non vedo l'ora di conoscervi e per me, ve lo dico sempre, ma devo ripeterlo davvero, cioè per me che filmo da sola nella mia stanza, avere l'opportunità di avervi lì, vedervi e abbracciarvi è veramente il top quindi sono già emozionata adesso praticamente allora adesso vi do tutti i dettagli, quindi martedì 4 ottobre Udine al Cittafiera di Udine dalle 15.30 in poi, io sarò lì, il taglio del nastro sarà alle 16, quindi proprio inaugurazione io sarò lì fino alle 18.30, quindi potete venire quando volete dalle 15.30 alle 18.30 sarò lì, ma se riuscite a venire in anticipo anche verso le 15 sarà meglio perché ci sarà tanta fila e poi perché vi dico che sarebbe meglio venire un po' prima, perché alle prime 350 persone in coda regaleremo una pochette con all'interno due prodotti mix, quindi insomma, e naturalmente l'entrata è gratuita non so se l'ho detto ma me lo chiedete sempre, quindi l'entrata è assolutamente gratuita le prime 350 persone in coda riceveranno la pochette con due prodotti mix e non finisce qui perché a ben 5 ragazze tra quelle in coda regaleremo anche un kit double stack mascara quindi un sacco di sorprese, io sarò là, potrò truccare qualcuno di voi se vorrete, insomma ci saranno un sacco di sorprese, io sono emozionatissima e potremo finalmente vedere il negozio NYX quindi sono felicissima, non vedo l'ora di incontrarvi tutti e tutte, scrivetemi naturalmente se venite se insomma ce l'ha fatta venire oppure no, lo so che in molte mi chiedete di venire a Trieste però ho già fatto un incontro a Trieste e quindi voi triestine venite a Udine per incontrarvi perché non so se ci sarà un altro incontro a Trieste nel prossimo futuro, quindi vi aspetto veramente tutte a Udine il negozio NYX, per darvi una mano perché il città fiera è enorme, si trova al piano terra vicino all'ingresso est e insomma vedrete, non vedo l'ora appunto che sia martedì, quindi mi raccomando appunto scrivetemi se venite scrivetemi tutto nei commenti, vi do un bacio gigantesco e ci vediamo presto, ciao! iscriviti al nostro canale!